A 50 anni dalla tragedia del Vaiondi, il Parco delle Dolomiti Friulane propone una serie di visite guidate nei luoghi della memoria. Fino al 3 novembre sarà possibile ripercorrere con il supporto delle guide locali i sentieri dove ancora oggi i resti delle case della diga rimangono tracce indelebili di quel terribile disastro.